Se ho capito bene, lei si candida per trovare un lavoro a noi? Sì, come fanno tutte le agenzie per il lavoro, dall'operaio all'ingegnere specializzato. Ma se io entro in un'azienda per ricoprire lo stesso ruolo di un dipendente tramite agenzia? Avrai stesse retribuzioni, tutte le diritti di quel dipendente, ma non potrai avere la sua tazza di caffè. Se lei mi trovo al lavoro, poi io cosa le devo? Grazie. Giovani? Tanti, almeno 400.000 solo l'anno scorso. Allora, vi ho convinto? In un anno, 800.000 lavoratori occupati, 270.000 persone formate gratuitamente, 50.000 persone selezionate da noi e assunte dalle aziende. Le agenzie per il lavoro fanno bene il loro lavoro.